ermetri alaci nato a sora provincia di frosinone il primo maggio 1955 primo maggio festa dei lavoratori eppure lui non ha mai fatto nulla infatti ambientalista e deputato dell'ulivo difensore strenuo della natura e nemico giurato degli interventi antropici a un peluche a forma di suv che periodicamente infilza con spilloni voodoo quando non cazza nessuno perché spreca preziose risorse idriche per cose inutili tipo lavarsi ascolta musica con un minuscolo lettore mp3 alimentato da 170 metri quadrati di pannelli solari non partiamo niente niente bene questo è il test di capitano nemo sono 13 domande ideate dal comandante personalmente per individuare a bordo i suoi marinai e scoprire se ci sono dei traditori e organizzarsi meglio con l'equipaggio prima domanda se facesse naufragio che cosa non dovrebbe mancare sulla sua zattera per poter sopravvivere acqua è qualcosa che serve per pescare con chi vorrebbe tanto naufragare travolto da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto molte possibilità tu non sei in pole position invece chi o che cosa butterebbe subito ai pesce cani anche qui molte possibilità però per rimanere sul concreto le cose che non servono per tenere a gala la barca qual è il pesciolone che non ha mai abboccato al suo amo tanti tanti troppi forse sbaglia esca cosa usa cosa usa di solito ma io sono più un pescatore subacquio per la verità quando vado a pescare vado a pescare con amici che operano molto le sardes che vive non so cosa opereremo noi oggi sta affogando la chi vorrebbe essere salvato da uno che sa nuotare in che situazione abitualmente si sente un pesce fuor d'acqua tante soprattutto quelle molto formali in cui bisogna rispettare l'etichetta io per esempio odio mangiare con quei camerieri che incombono e ti vogliono servire che a me danno da fastidio che non stiano mangiando insieme a me quale pesce la rappresenta di più pesce martello pesce cane pesce pagliaccio pesce palla pesce sega anche un pesce di fantasia questa è una bella domanda a me piace molto la spigola è un predatore veloce corre sotto il mare anche la ricciola non è male fra i tunnidi facciamone una prossima rincarnazione perché adesso mi sembra che marca male grazie Grazie a tutti.